Una pagina nera per tutti, per chi è genitore, per chi è padre, per chi è madre, è un'attività che riguarda minorenni degli anni 18, ragazze, ragazzine, studentesse tra i 14 e i 17 anni, anche maggiorenni, ma l'età non fa la differenza. Il reato è molto grave, come dicevo prima in conferenza, sia per quello che riguarda il gestore per la prostituzione minorile, gli atti sessuali e l'induzione alla prostituzione, ma è anche ancora più grave nei confronti di clienti che richiedevano prestazioni sessuali realizzate poi da studentesse e da minorenni, quindi da persone che non sono capaci di autodeterminarsi. Quindi non sono capaci di discernere il gioco che è bene e ciò che è male, sono più vulnerabili, sono soggetti ovviamente portati magari nei confronti soprattutto del gestore ottantenne a vedere una persona anziana, quindi una persona di esperienza, magari una persona di cui fidarsi, quasi associarla magari a un familiare. Questo ha portato purtroppo la facilità dei gestori di adescare, nel vero senso della parola, questi minorenni. Qualcuno mi chiedeva ma che titolo facevano i minorenni? Lo facevano a titolo perché erano soggiocate anche psicologicamente da questo soggetto che con complimenti, con atteggiamenti vari e con la scusa di impiegarli all'interno del circolo per servire i tavoli, poi alla fine le faceva prostituire, le offriva ai clienti. La cosa che turba è che questa vicenda riguarda delle minorenni, alcune anche giovanissime, soprattutto questa esperienza che si è rilevata del gestore, che senza frenibitorio, senza remore, senza una moralità, può essere a quell'età sia i nonni, se non padri, assolutamente ha approfittato di queste minorenni e le ha avviate alla prostituzione. Il pello dell'arma è proprio quello rivolto a eventuali ulteriori vittime, quindi eventuali altri minorenni o maggiorenni, a studentesse, magari ai genitori, magari ai fidanzati di queste ragazze che hanno subito in passato da questo gestore questi avanzi e questi adescamenti, di rivolgersi ai carabinieri di Avellino.